armando de mostenes ferrero il parroco padre josé legisamon vicente scaltro navarro in porta carmino fortunato lo prete luis cracorian lemo eusebio daniel quintana il vice commissario bautista pisano claudio alcides pedro guvenal doppio asse rodriguez evaristo il sudicio cuevas ormona domingues e amateo gonzales che fai non lo so ma lo fanno tutti pare che porti fortuna la partita è inizio sudicio passa la palla ad amadeo che la passa a ferrero ferrero passa a destra ormona domingues che sta sognando a occhi aperti doppio asse chiama la palla la implora la ottiene e la passa torna al mediano retrato quintana il curato chiama la palla sul lato sinistro padre passa al centro che aspetti due passaggi corti e uno lungo passaggio in profondità per gonzales e cantoni ruba la palla senza fatica la lunga in profondità san pietro ma la intercetta saidi che la passa a van der lubin la palla va al centro per ailton che passa in avanti alla saidi passaggio e si lascia alle spalle il curato e krakorian ferma la palla finta la lancia verso la porta mi viene deviata la prendo 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 non l'ho presa dal 29 maggio al cinema anche in 3d Miancilla Miancilla Miancilla